Ternice non è così sciocco da pensare che la storia sia storia dei deboli, perché non si capisce perché i forti siano forti e poi non hanno fatto la storia. No, no, la storia è storia dei deboli esattamente come lo è per Hegel, cioè di deboli, del servo in realtà per Hegel, che in realtà sono forti, fortissimi, solo che manifestano la propria forza attraverso la costruzione di un sistema di sicurezza, sostanzialmente. Un sistema di sicurezza che è intrinsecamente angoscioso e insicuro. Questo discorso Nietzsche lo ha fatto cominciandolo con la genealogia della morale. Cioè la nascita della morale è una nascita che passa a bisogno dell'idea di colpa. Immagine questa scena primordiale, una delle tante scene primordiali in cui i filosofi riassumono l'essenza della civiltà. No, pensate, la scena primordiale della caverna di Platone, la scena primordiale della uccisione del padre in Freud, la scena primordiale del conflitto servo-signore in Hegel, la scena primordiale della genealogia della politica, è questa cerchia di aristocratici, figli del re, che temono il padre, lo uccidono, continuano a conservarne il timore, insegnano ai sottomessi il timore del padre, che è anche il loro timore, e insieme ai sottomessi, dunque sono forti per modo di dire, insieme ai sottomessi costruiscono un sistema di riparazione della colpa, che è la civiltà. E questo sistema di riparazione è intrinsecamente instabile, è votato alla ricerca della stabilità e della sicurezza, ed è intrinsecamente instabile, perché è animato non più dalla paura originaria del padre, ma dall'angoscia per averlo ucciso. Per cui è il meccanismo sostanzialmente del double bind. Tu devi essere come me, cioè devi dimostrare che io sono inutile, perché tu vali tanto quanto me, e al tempo stesso tu non potrai mai essere come me. Cioè tu devi dimostrare, costruendo la civiltà, che non hai commesso un così grave peccato uccidendo il padre, e al tempo stesso non ci riuscirai mai a liberarti dalla posizione di inferiorità verso il padre. La civiltà è un sistema di sicurezza rispetto a una colpa che non viene mai meno. Questa è l'origine della morale. La dimensione attraverso la quale si è giudicati, anzi, ci si autogiudica continuamente come inferiori rispetto all'obiettivo che si dovrebbe raggiungere. Non male come intuizione, no? E la teologia politica è la stessa cosa. Diciamo così, Nietzsche dice una cosa sola, come tutti i grandi filosofi, per tutta la durata della sua manifestazione di sanità mentale e di potenza intellettuale. C'è una cosa sola, questa. E la dice nella sua prima opera importante, Generologia della morale, la dice nell'Anticristo, che è l'ultima, fra le ultimissime, e qui Anticristo vuol dire due cose sostanzialmente. Primo, il cristianesimo come si è evoluto storicamente è in realtà la negazione di Cristo e secondo, io Nietzsche sono contro il cristianesimo storico. La figura di Cristo è accettata, è accettata come figura debole, come figura del morente, e respinta come figura che diventa l'architrave della mediazione fra cielo e terra, cioè diventa l'architrave che sorregge questo gigantesco raddoppiamento del mondo che è la storia dell'Occidente. Questo raddoppiamento, che non è un raddoppiamento fatto a caso, è un raddoppiamento generato dalla colpa prodotto dall'angoscia, mobilitato dall'angoscia, e orientato a ottenere una sicurezza impossibile, ma attenzione, è tuttavia la più potente forma della volontà di potenza. Non è che la volontà di potenza ha taciuto e aspetta Nietzsche per manifestarsi. Questo raddoppiamento è la volontà di potenza, solo che è una volontà di potenza malata. È una volontà di potenza che, fondandosi sulla mediazione, sul raddoppiamento, ignorando, ma comunque subendola, l'angoscia, ha in ogni caso, per quanto sia stata potente, ha costruito tutta la storia delle civiltà occidentali, oggi, poco dopo la metà del 1800, è davvero morente. e si consegna passivamente al proprio esaurimento, non la decadence. È davanti a questo che Nietzsche fa l'operazione genealogica, reinterpreta la storia dell'Occidente e contrappone la cattiva volontà di potenza, ormai esauritasi, alla buona volontà di potenza, che è la sua, che vuol dire essenzialmente fare a meno della mediazione, fare questo grandioso esperimento mentale che consiste nell'immaginare un mondo privo di mediazione. E dunque, questa immaginazione di un mondo privo di mediazione implica la possibilità di pensare a un mondo privo di angoscia, privo di colpa, al di là del bene e del male, appunto. immediatezza, come dire, priva di valore, poiché il valore è un valutato, uscire dalla dimensione del valore, uscire dalla dimensione della valutazione, uscire dalla dimensione del dar valore o dare disvalore. Che cosa voglia dire? Non si sa, sostanzialmente non lo sapeva nemmeno lui. è praticamente indicibile questa cosa. E tuttavia, questo è l'incipit del Novecento. Questo è proprio l'origine del Novecento. Cioè, dire l'indicibile, formare l'informe, affermare la impossibilità di affermazione, affermare l'impossibilità del discorso. è l'autocontraddittorietà della cultura del Novecento, nelle arti figurative, nella psicanalisi, nella letteratura, la distruzione di tutte le forme e la pretesa che questa distruzione ci dia qualche cosa di originario. La infinita ricchezza della pagina nicciana si dimostra ovunque nella filosofia del ventesimo secolo è all'origine del distacco fra le parole e le cose. Qui c'è l'inizio di quello che è stato definito a lungo l'irrazionalismo. Oggi lo possiamo definire la critica radicale della ragione, la genealogia della ragione, che si può fare soltanto se vedi nella costruzione della civiltà nient'altro che una religione, sempre e comunque una religione pagana e cristiana a questo punto non conta, lo Stato moderno è la stessa cosa che la filosofia sostanzialmente sta criticando se stessa e infatti non c'è un filosofo che gli vada bene perché la filosofia è tutta mediazione. Nel primo apparato filosofico che occupa la scena dell'Occidente, cioè da Platone in poi, la filosofia è solo mediazione, cioè è solo giustificazione e sistematizzazione, costruzione, dominio, non c'è poco da fare, dominio, dominio del mondo attraverso la ragione. Qui sono le fenomenali definizioni dei filosofi tedeschi date da Nietzsche, proprio nell'anticristo. Hegel, un pastore luterano, non si sbagliava Nietzsche. E Kant, il ragno fumesto di Königsberg, dove la parola chiave è ragno, cioè uno che tesse una tela sopra un vuoto. E invece Nietzsche dice no, bisogna avere il coraggio di guardare il vuoto di valori che non è un vero vuoto, nichilista, sarete voi. Io guardo il vuoto di valori e dentro quel vuoto ci vedo il pieno di che cosa? Di quello che voi chiamate sostanza e che se lo chiamate come sostanza finisce subito il gioco prima ancora di cominciare. chiamiamolo con un'altra parola la vita.